La mia passione per il cinema nasce quando ancora non sapevo cosa fosse. Ho cominciato a girare film nella mia testa molto presto. Quando da piccola i miei genitori mi lasciavano da sola per abituarmi alla loro assenza e a quella di altri bambini. Nella mia stanza creavo mondi paralleli, animavo i pupazzi e incontravo i miei primi amori. Quando ho capito che il cinema faceva quello che facevo io, da sola, nella mia stanza e per me stessa, ma che lo faceva fuori, nel mondo e per tanti, ho capito che volevo fare quello nella mia vita. Voglio scrivere storie per il cinema, perché credo nel suo potere di trasportare le persone, di aprire una via di fuga dal presente, dalla propria circoscritta realtà. Il cinema è il viaggio più economico che esista. Grazie ad esso puoi andare ovunque, in qualsiasi epoca e con chiunque tu voglia. Il cinema sa e può porre domande, dare qualche risposta, insomma, far riflettere. Ed ha inoltre l'incredibile capacità di farti prendere strade diverse da quelle che hai preso. Vivere e vedere cose che altrimenti non potresti. Ed è proprio per questo che io voglio, disperatamente, farne parte. Io farò film.